In questa video guida parliamo di mocio pavimenti. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Il mocio per lavare i pavimenti è una valida alternativa al classico straccio in quanto è molto più comodo e permette di non doversi chinare per strizzarlo facendo risparmiare tempo e fatica. Il mocio infatti è costituito da una testa composta da strisce di tessuto e un secchio con due scomparti per l'acqua, su uno dei quali c'è un cestello nel quale strizzare il mocio e far defluire l'acqua sporca. Questo permette di avere sempre acqua pulita a disposizione con un notevole risparmio di tempo. Inoltre ne esistono di diversi tipi e materiali, con testa snodabile, con frange intrecciate, telescopici, adatti a qualunque pavimento e che possono essere lavati tranquillamente in lavatrice. Grazie. 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 Grazie.